Siamo qui al bar Cream & Coffee e c'è la giornata europea del gelato artigianale, una giornata dedicata proprio al gelato e qui ci sono già i visitatori, qui è una maglietta che viene regalata ai bimbi, ecco le delle immagini i visitatori che devono provare il gelato di Cream & Coffee ad Eboli, presso i Village Altometto Cilento. Lei sta acquistando un gelato in questo momento, che tipo di gelato è questo? Fragole e limone, lei ha preso questo gelato e è venuto qui da Cream & Coffee, perché? No, è solo di passaggio, i bambini hanno visto il gelato, hanno visto una bella vetrina preparata e hanno scelto un gelato, la vetrina le ha tirate. Grazie a me, ecco questo gelato è a frutta, giustamente è un gelato poco calorico, come viene mangiato insomma? Sì sì, il mio consiglio da sportivo è meglio un gelato a frutta, poco calorico e sempre genuino. Ecco, proviamo questo gelato, prendi. Vediamo la qualità del gelato, il gusto a fragola, da Cream & Coffee, com'è questo gelato? Si sente molto la fragola, proprio fragola, si vede artigianale. Produzione artigianale, ecco lei da dove viene, scusi, me di Eboli? No, io vengo da Sant'Antonio a Bate, in provincia di Napoli. Ah bene, ha fatto la passaggiata qui giustamente. Sono di passaggio, sono andato a fare una gara di bici qui all'Oasi di Calento e al ritorno ci siamo fermati. Bene, quindi veramente è un negozio che attira insomma. Sì sì, la vetrina ha tirato i miei bambini, l'ha tirato la vetrina dei gelati. Bene, bene, ecco, ho qui con altri visitatori che sono fermati presso Cream & Coffee di Eboli. Ecco, adesso ha preso il gusto di caffè, com'è questo gelato?